Stop alla pausa sigaretta. Tabacco bandito nei cortili e negli impianti sportivi delle scuole, oltre che, come già in passato, da aule e corridoi. E le scuole piacentine sono in trincea per far rispettare il nuovo divieto. Fuori legge negli ambienti interni, secondo le ultime disposizioni, anche le sigarette elettroniche. Per i trasgressori, sia studenti sia professori, sono in arrivo multe salate, dai 25 ai 250 euro. Musi lunghi, soprattutto fra i ragazzi, c'è anche chi all'Istituto Romagnosi ha già chiesto un permesso apposito al preside, permesso o non concesso. Mugugni è anche fra qualche docente, costretto ad arrivare fino alla strada per concedersi una boccata di fumo. Cosa pensi del nuovo provvedimento? Ma non saprei, era già così. Nella mia scuola non si può andare in cortile durante l'intervallo, comunque non si può neanche nella via di fianco, quindi era già così, ci sono abituata praticamente. Quando vado in bagno, ad esempio, sento l'odore del fumo, quindi molta gente va in bagno a fumare. Quindi provvedimento o no? Chi si nasconde nei bagni a fumare c'è? Non riescono a beccarli, quindi come fanno a prendere provvedimenti? Cioè uno anche gli dice, non devi farlo, lo fanno lo stesso. Non mi sembra giusto, perché comunque i professori o anche le bidelle hanno il tempo, possono uscire, fumare e poi tornare dentro. E invece poi si lamentano se ci sono alcune persone che magari fumano in bagno. Io sì fumo, fumo, però penso che almeno un momento di libertà nella giornata ci vorrebbe. La lotta serrata contro il tabacco era già stata avviata negli anni precedenti, ma ora gli avvisi si sono fatti legge e i dirigenti scolastici sono intenzionati a farla rispettare con rigore e se necessario ad applicare le dovute sanzioni. Una novità non per tutti, visto che al campus agrario, già prima del recente giro di vite, furono sanzionati due alunni beccati in flagrante nei locali della scuola. Gli introiti delle multe non finiscono però nelle casse degli istituti, i quali hanno il compito solo di segnalare l'episodio all'Agenzia delle Entrate. Grazie. 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 Grazie.